Ore 9, Passo Venerocolo, 3145 metri, siamo sul ghiacciato del Pisgana, non c'è anima viva, giornata per ora che tiene, direi bene, salita che è durata abbastanza, adesso ecco che arrivano anche i compagni di gruppo, ecco Davide, com'è? Eh, ti piace? Eh beh, di tutto rispetto direi, io direi che se hai gamba fino là alle rocce riesci ad arrivarci, vabbè ma io arrivo eh, dopo io metto sui ramponi, così vado su un po' meglio, e dopo là vediamo com'è, magari la cresta è più ristretta, magari ci sono rocce dietro, chi lo sa? Non lo so, adesso sono le tracce là, anche là c'è la Rock Peacegana, stanno arrivando anche per le altre, eh? Già qua dietro?